E bentornati sul mio canale, io sono Victor Danda e questa è la The One TV Oggi parliamo di un personaggio che raramente, no forse quasi mai ne abbiamo parlato sul mio canale Stiamo parlando della terza carica più importante dello Stato, del Presidente del Senato, Ignazio Larossa che ieri per l'ennesima volta ha fatto un altro scivolone Ormai abbiamo capito che è abituato tanto a farne scivolone Prima di tutto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare Altra cosa importante, noi abbiamo lanciato una sfida per arrivare a 1000 iscritti dentro fine anno È difficile? Sì, è impossibile? No Perché sono convinto che grazie a voi, grazie al vostro aiuto, possiamo davvero fare la differenza Allora, ancora una volta il signor Ignazio Larossa, Presidente del Senato, fa un altro ennesimo scivolone Noi ci ricordiamo quando era solo un deputato, con la famosa sciarpa, io e merda Ormai le solite battutine, però uno diceva, vabbè, fino a che uno è deputato Già non lo dovrebbe fare perché tu sei deputato Rappresenti, se tu sei candidato, non rappresenti solo una parte di personaggi che ti fanno inter Ma tu rappresenti tutti coloro che ti votano, qualunque colore di squadra Però uno può dire, vabbè, è un deputato Però quando tu diventi Presidente del Senato e commetti uno scivolone dopo l'altro E gli è, ne è commesso un altro, ne è commesso un altro Ma davvero siamo arrivati a questo, che dobbiamo avere un presente del Senato che fa certi scivoloni E poi è uscito con la solita battutina Perché è stata solo una battutina, però la battutina oggi, la battutina domani, la battutina dopodomani Il sentimento popolare aumenta, perché lui cosa ha detto? Vediamo, ieri una dichiarazione, mi sembra che era un evento politico Gli hanno fatto un'intervista, lui Volevo fare una cosa diversa dal Presidente del Senato Volevo fare il Ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito Ma il Presidente del Consiglio mi ha detto di no Giorgio Meloni mi ha detto, lo fai per aiutare la tua Juve E lui, ridendo, assolutamente no Semmai per affondare la Juventus Cosa? E si è messo a ridere Signori miei, la carica La carica La terza carica dello Stato Dopo il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Cioè il Presidente del Senato Mi va e mi dice, no Assolutamente, non lo faccio per favorire la Juve E l'Inter, scusate Ma per affondare, per affossare la Juve Signori miei, voi immaginavate Se a parte inverse Che un Presidente del Senato Diceva una cosa del genere No, che fosse la Juve, lo diceva Contro il Napoli Contro l'Inter Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo la guerra Che tutti chiedevano le dimissioni Tutti chiedevano le dimissioni E ancora una volta E ancora una volta Il silenzio totale Perché se ne escono fuori Ma è solo una battuta Perché ha riso E qua battute, battute Qui a battute, battute Ridiamo tutti, ridiamo A battute, battute, ridiamo tutti Ma un Presidente del Senato Deve essere una persona seria Deve essere una persona Che tutela tutti A me che mi fa la battutina del genere Non mi piace Perché io allora così devo pensare Che tutto quello che è successo Finora è stato per affrontare la Juve Perché quando è stata attaccata la Juve C'era sempre l'Ighiaccio della Russia Poi non contento Ha risposto Non vado a Torino Da quando ci hanno rubato uno scuillotto Con il rigore negato a Ronaldo Perché prima di tutto Il rigore non è gol Caro l'Ighiaccio della Russia Sendo che tu sei un uomo di sport Sendo che tu sei un uomo di sport Immagino che sa che il rigore non è gol Perché l'Italia con un calcio di rigore Non è data in mondiale La Juve per un calcio di rigore Non ha vinto la Champions Allora il rigore non è gol Una cosa che solo la Juve da allora poteva fare Sulla partita Poi ha parlato sulla partita di ieri Che non mi interessa Però signori miei Un Presidente del Senato Che dice alcune cose A me mi vengono Sinceramente i brividi Mi vengono sinceramente i brividi Dire Perché Lui l'ha detto Lui Perché ogni volta Che Che il Presidente del Senato Dice una cosa È una cosa pesante Poi se ne esco Ma era una battutina Quando può farne Li attacco Ma io ho fatto una battutina Con il sorriso E allora scusate In tutto questo Quando lui mi dice Volevo fare Il Ministro dello Sport Così mi sarei riposato E anche divertito Come lo deve fare il signor Abodi Perché si sta riposando il signor Abodi Il Ministro dello Sport Mi dica Si sta riposando Perché io ancora non ho capito Fare il Ministro dello Sport È un divertimento? Perché forse è convinto Che fare il Ministro dello Sport Non sia una cosa importante Portare riforme Per lo sport italiano Non è importante Perché allora Questo signore qui Davvero Voleva fare il Ministro dello Sport Per affondare la Juve Io non lo so Lo sappiamo che ogni tanto Esce Perché deve dare Come si può dire Essendo che si arrivano Stanno andando verso le votazioni europee Non vorrei che Ha fatto questa uscita Per dare il contentino Il contentino E i suoi elettori Sappiamo che lui è molto Se non mi sbaglio E si candida Nella parte di Milano Per dare il contentino Ai tifosi dell'Inter Non lo so Perché Alcune battute Perché io Mi sono stofato Sempre che alcuni personaggi Che hanno Gli incarichi Importanti Se ne escono Con battutacce Perché questa è una battutacce Poi se ne escono Ma è stata una battuta No no Questa è una storia di creazione Sono parole Che restano Tu mi hai detto Che fare il ministro dello sport È divertente E ti riposi Volevi fare il ministro dello sport Però Non per Per aiutare l'Inter Per affondare la Juve Ma signori miei Ma questa Dove siamo arrivati Siamo davvero al ridicolo Siamo a un presidente Del senato Che mi fa Mi fa le battute Mi fa le battute Basta Basta portare avanti Il sentimento popolare O mai siamo abituati Ai suoi scivoloni Però Fino a che era deputato Mi stavo pure bene Fino a che era deputato Mi stavo pure bene Ma da presidente Del senato Alcuni scivoloni Si potrebbero anche evitare Io mi aspettavo Altrettanto Una risposta netta Della Juve E Delle scuse Dal signore Ignazio la russa Perché sì Che l'hai potuto Dire Con il sorrisino Tutto quello che volete Però In una sola battuta Hai 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 detto che Il ministro dello sport Non fa niente Si riposa Hai portato avanti Una polemica È ancora più grave Più grave Perché il dubbio qual è Che se tu facevi Di avere presente Il ministro dello sport Inguagliavi la Juve Non lo so Poi ognuno Può pensare come vuole Perché Dalla parte Juventina Tutto Ad attaccare Ignazio la russa Dall'altra parte Dall'altra parte Tutto a dire Che è una battuta Però signori miei Io penso È un mio Semplice Paletti Io non sono Un signor Nessuno Sono mister Non tre Ma fino a dieci Dovrebbe contare Uno Due Tre Quarto Cinque Sei Fino a dieci E poi parlare Perché questo qua Questa battuta Poteva essere una battuta Gogliarica Una battuta Per fare ridere Però se uno vede La sua storia Con la sciarpa Juve Merda Tante Tante dichiarazioni Contro la Juve Uno più uno Secondo me Alla fine fa due E qui Uno più uno Fa due E forse Davvero Diventare un ministro Dello sport Qualche dubbio Me lo faceva venire Signori me Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E ci vediamo Poffone Ciao